Anche quest'anno torna il Gran Sasso Bike Day, giunto alla sua settima edizione. L'appuntamento è per il 28 luglio alle 8.30 a Fonte Cerreto, una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia, del territorio, ma anche nel segno del rispetto del ciclista e della montagna. Ad organizzare e coordinare l'evento è, come sempre, l'associazione ciclistica dell'Aquila Bike 99 del presidente Alessandro Celi. Per lo svolgimento della manifestazione sarà chiusa il traffico veicolare dalle 8 alle 14 l'intera strada che da Fonte Cerreto conduce in cima a Campo Imperatore. Sono diversi gli appuntamenti in programma di una giornata molto intensa. Alle 8.50 partirà la ciclopedalata, 110 km tra gli affascinanti borghi del Gran Sasso. Si attraverseranno Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte. Alle 9.00 spazio alla ciclostorica Gran Sasso Vintage Bike Day, rigorosamente in bici d'epoca, in collaborazione con l'SD Cicli Ricci. I ciclisti che parteciperanno potranno conquistare la mitica cima dedicata al grande Marco Pantani. Alle 9.05 partirà il Gran Sasso Bike Day vero e proprio con i suoi mille metri di ascesa verso Campo Imperatore. Per tutti gli appassionati di montagna, inoltre alle 8.30 il CAI proporrà un'escursione Anello del Garibaldi, che vedrà impegnati gli escursionisti su un percorso di trekking di circa 8 km. Nel giorno dell'evento si potrà utilizzare la funivia per salire e scendere al prezzo scontato di 7 euro. Il Gran Sasso Bike Day quest'anno sarà ecologico e nel rispetto della natura. La partnership con la Gran Sasso Acqua garantirà lo svolgimento di una giornata plastic-free. Non saranno distribuite infatti le solite bottigliette d'acqua, ma l'azienda Gran Sasso Acqua metterà a disposizione un autobotte che permetterà ai ciclisti di riempire le proprie borracce durante l'ascesa. Ma la vera novità di quest'anno sarà la presentazione della B99, un progetto di Bike 99 Ambra, realtà dell'Aquilano, che hanno ideato la birra B99, la birra del ciclista e dello sportivo, vero e veloce reintegratore dopo l'attività sportiva. Per informazione e per descrizione si potrà consultare il sito www.gransassobikeday.it oppure il sito dei Bike 99 www.bike99.it. Anche su Facebook, nella pagina Bike 99, ci si potrà tenere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti.